3 contro 5 mi sembra molto equilibrato. Io ne conto solo 4. Dov'è la bella farfallina? Oh, Mauti! E a fare un giretto. Ehi, ma che gli è successo? Per me è stato colpito da naftalina radioattiva dello spazio cosmico. Avanti, all'attacco! Stavo pensando... A che mi serve una squadra adesso, Mauti? Salga a bordo, mio signore! Fai vedere di cosa sei capace, Mauti! Fai vedere di cosa sei capace, Mauti! Ah, ma per favore, non rendermi la vita troppo facile! Tu credi che un po' d'acqua mi possa spaventare? No, ma forse un po' di ghiaccio sì. Eccolo lì, l'oggetto dei miei desideri. Tanti auguri a me... Anche se oggi non è il mio compleanno. Ormai sei mio! No, sei mio! Ascolta, io distrago Mauti. Tu trova un tetto più alto. Ok. Quassù! Va bene, è tuo! Ehi, scendi dalla mia schiena! Yihah! Hai qualcosa da dire prima di lasciare questo mondo? Preparati all'atterraggio. Eh? Quale atterraggio? Signore, signore, attento! E' proprio questo il segreto del nostro successo. Oh, no!